Buonasera a tutti, mi chiamo Carla Florio, abito a Porto Alegre, nel stato di Rio Grande do Sul. Ho una figlia che si chiama Gabriele e lei è la persona più importante della mia vita. Sto facendo il corso di italiano online del professor Silvano Formentin e sto davvero imparando molto. Il professor Silvano è un bravissimo insegnante, molto dedicato e le sue spiegazioni sono molto chiare. Sono andata in Italia tre anni fa per turismo e è certo che è stato un viaggio molto buono, però non sapevo parlare l'italiano e neanche capivo niente. A gennaio scorso sono andata un'altra volta in Italia con mia figlia. Siamo andate a Roma e a Firenze per 12 giorni e mi mancano parole per descrivere questo viaggio eccezionale. Ma perché mi è piaciuto tanto questo viaggio? Perché sono riuscita a parlare l'italiano, a parlare, a chiedere le informazioni in albergo, al ristorante, alla stazione di treno e perché sono riuscita a capire l'italiano, a capire praticamente tutto che era necessario per noi. Non ho ancora finito il corso e è certo che ho fatto alcuni errori quando parlavo, come adesso. Ma il più importante, secondo il professor Silvano, è parlare, parlare e parlare senza paura. Una grande verità. Grazie mille, professor Silvano. Grazie mille per tutto che ho imparato e che sto imparando. Grazie mille per le sue lezioni d'italiano e principalmente per le sue lezioni di vita. Questo corso mi ha cambiato la vita. Grazie mille.